La presenza di un robusto anticiclone sull'Europa orientale mantiene ancora stabilità atmosferica anche sulla nostra regione. Pertanto per questo fine settimana non avremo grossi cambiamenti, con un cielo in prevalenza poco nuvoloso nella giornata di sabato per possibili velature in montagna. Qualche nuvola in più sarà probabile sulla bassa pianura e sulla costa per l'arrivo di umidità nei bassi strati con possibili foschie notturne. Inversione termica marcata sulla regione, con temperature molto basse al mattino nei fondovalle e temperature decisamente sotto zero anche in pianura e probabili brinate. Per quanto riguarda la giornata di domenica, condizioni tutto sommato abbastanza buone, con un cielo sereno sulla zona montana e un cielo generalmente poco nuvoloso su bassa pianura e costa. Temperature stazionarie, in lieve ripresa le massime, ma poca differenza, valori intorno agli 8 gradi su pianura e costa. Anche l'inizio della prossima settimana sarà catenizzata ancora dal bel tempo, lunedì con cielo sereno poco nuvoloso e ancora in versione termica. Martedì probabilmente arriveranno nuvole nei bassi strati, soprattutto su pianura e costa, per l'arrivo di correnti un po' più umide da sud ovest. Buon fine settimana a tutti!